distesi in una posizione comoda lasciamo andare il peso del nostro corpo sulla superficie che ci sostiene rilassiamo l'espressione del viso rilassiamo la mandibola la bocca si socchiude lasciamo passare il respiro anche attraverso la bocca prendiamo coscienza e rilassiamo ogni singola parte del corpo concentriamo l'attenzione sulle dita del piede destro sentiamo e rilassiamo le dita del piede destro la pianta del piede destro rilassiamo la pianta del piede destro il tallone destro rilassiamo il tallone destro rilassiamo le articolazioni del piede destro concentriamo l'attenzione sulla caviglia rilassiamo la caviglia destra ancora la caviglia destra concentriamo l'attenzione sul polpaccio destro rilassiamo il polpaccio destro rilassiamo il polpaccio destro rilassiamo la tibia destra rilassiamo la tibia destra rilassiamo l'attenzione sulle dita del piede destro rilassiamo la tibia destra rilassiamo la tibia destra rilassiamo la tibia destra rilassiamo l'attenzione sulle dita del piede destro ancora il ginocchio destro rilassiamo l'attenzione sulle dita del piede destro rilassiamo tutti i muscoli della coscia destra rilassiamo l'attenzione sulle dita del piede destro ancora la coscia destra rilassiamo l'attenzione sulle dita del piede destro rilassiamo l'attenzione sulle dita del piede destro ancora l'anca destra ancora l'anca destra l'anca destra Osserviamo e lasciamo andare tutta la gamba destra nel suo insieme. Ci concentriamo e lasciamo andare le dita del piede sinistro. Ancora le dita del piede sinistro. Rilassiamo la pianta del piede sinistro. La pianta del piede sinistro. Rilassiamo il tallone sinistro. Il tallone sinistro. Rilassiamo le articolazioni del piede sinistro. Rilassiamo l'attenzione alla caviglia sinistra. La rilassiamo. Rilassiamo la caviglia sinistra. Rilassiamo il polpaccio sinistro. Il polpaccio sinistro. Rilassiamo la tibia sinistra. La tibia sinistra. Rivolgiamo l'attenzione al ginocchio sinistro e lo rilassiamo. Il ginocchio sinistro. Rilassiamo la coscia sinistra. La coscia sinistra. Rilassiamo l'attenzione al ginocchio sinistro. L'attenzione al ginocchio sinistro. Rilassiamo l'attenzione al ginocchio sinistro. Rilassiamo il ginocchio sinistro. Rilassiamo il ginocchio sinistro. Rilassiamo il ginocchio sinistro. L'osso sacro. La zona lombare. Rilassiamo il ginocchio sinistro. Rilassiamo il ginocchio sinistro. Ancora i glutei. Osso sacro. Zona lombare. Rilassiamo il ginocchio sinistro. Il pube. La parte inferiore dell'addome. La vita. Rilassiamo il ginocchio sinistro. 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 E ancora. Rilassiamo il ginocchio sinistro. Rilassiamo il ginocchio. Rilassiamo il ginocchio. Rilassiamo il ginocchio. Rilassiamo il ginocchio sinistro. rilassiamo il petto rilassiamo il petto rilassiamo l'insieme del busto rilassiamo la clavicola destra la clavicola destra rivolgiamo l'attenzione alla scapola destra e la rilassiamo la scapola destra rilassiamo la spalla destra la spalla destra rilassiamo la parte superiore del braccio destro la parte superiore del braccio destro rilassiamo il gomito destro il gomito destro rilassiamo l'avambraccio destro l'avambraccio destro il polso destro rilassiamo il polso destro rilassiamo l'avambraccio destro la mano destra rilassiamo l'avambraccio destro rilassiamo l'avambraccio destro rilassiamo la mano destra rilassiamo l'avambraccio destro 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 ci concentriamo sulla clavicola sinistra e la rilassiamo la clavicola sinistra rilassiamo l'avambraccio destro 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 Rilassiamo la spalla sinistra. La spalla sinistra. Rilassiamo la parte superiore del braccio sinistro. La parte superiore del braccio sinistro. Rilassiamo il gomito sinistro. Il gomito sinistro. Rilassiamo l'avambraccio sinistro. L'avambraccio sinistro. Il polso sinistro. Rilassiamo il polso sinistro. Rilassiamo la mano sinistra. La mano sinistra. Rilassiamo le dita della mano sinistra. Le dita della mano sinistra. Rilassiamo l'insieme del braccio sinistro. Concentriamo l'attenzione sul collo. e lo rilassiamo. Rilassiamo il collo. Rilassiamo l'attenzione. nella testa. Rilassiamo la testa. Rilassiamo il collo. di nuovo rilassiamo la testa. rilassiamo l'intero corpo. rilassiamo il collo. nel suo insieme. rilassiamo il collo. 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 il collo. Rilassiamo il collo. Eguessi? Grazie a tutti. Grazie a tutti.